Salve a tutti ragazzi e benvenuti su InSport continua la serie dedicata al mio pensiero ripeto non perché io sia un influencer importante perché chissà che cosa ma perché mi viene chiesto certe volte sul web adesso un pochettino più di frequente ecco qualche messaggio mi arriva e ogni tanto anche di persona anzi spesso voglio dire di pensiero di persona cosa ne pensi di oggi parleremo di un argomento molto molto controverso e che è quello della zumba zumba che è questa danza che nasce per il dimagrimento e per l'attività fisica che ha creato un boom un'orda di gente che andava a fare balli danze e quant'altro e ha portato più di qualche signora in in una sala aerobica con la musica e a ballare ripeto questo sono pensieri miei se ci sono dei problemi dei dubbi o se li volete chiariti o se volete dare approfondimenti ragazzi naturalmente scrivetelo sempre in maniera gentile e con anche educata soprattutto perché se no vi blocchiamo molto chiaramente e se avete problemi e quant'altro scrivetelo o nei commenti oppure ce lo scrivete a noi su instagram su facebook dove siamo molto attivi e poi passeremo comunque ad approfondire in un video successivo appunto dice chiamandovi proprio facendo uscire magari il commento in in sovraimpressione e cercheremo di chiarire eventualmente dei dubbi detto questo ragazzi la zumba la zumba cosa ne penso della zumba e allora non sono amante della dei balli io per dimagrimento cioè nel senso mi piace ballare in discoteca e quant'altro ma se dovessi scegliere un'attività fisica non sarebbe quella della zumba io penso che la zumba sia utile attenzione se viene vista dal punto di vista del divertimento come molte persone lo vedono ma almeno mi diverto va benissimo bisogna però fare un chiarimento se si va in palestra in una sala d'aerobica in una sala attrezzi si va perché ci si vuole divertire o perché si vuole creare qualcosa di buono in duratura nel tempo ecco e se si va per divertire allora la zumba può andare può andare bene perché ti diverti c'è la musica c'è il coinvolgimento di tutti quanti guarda può essere anche divertente mai provata ho visto ma mai provata sembrava divertente la questione se invece si va per un dimagrimento serio la zumba non è proprio consigliata cioè nel senso va bene perché comunque un po cardio allora dici diverti e quant'altro però diciamo che esistono delle attività con dispendio orario calorico molto più elevate e che portano molto più benefici anche a livello di tonificazione proprio muscolare e l'unica nota positivo che ho trovato io nella zumba e che da amante dello sport ho visto un sacco di signore che ci andavano e quando ho assistito a questa lezione un sacco di ragazzine che magari un po' in più in carne si vergognano dalla sala attrezzi e ho detto se questa attività crea uno spostamento di massa che dal divano e dai pop con le patatine dai film dai telefonie e quant'altro li porta a muoversi questo sport o questa attività può andare bene potrebbe andare bene ok ripeto dipende che cosa si cerca e si vuole da un da una determinata attività perché la zumba è divertente ok è un'attività aerobica c'è la musica ripeto il convergente però non crea dei presupposti duraturi e che non crea proprio anche a livello di tonificazione muscolare non crea ok però io l'ho visto in questo in quest'ottica spostare la gente dal divano in palestra la zumba ci è riuscita è stata una moda è stato un boom c'è ancora chi la continua a fare si è andato un pochettino a perdere questa cosa però lo ha fatto ragazzi ha creato questo cioè è stata una nonità che ha portato la gente a muoversi in questo ambito lo dobbiamo riconoscere nonostante ci sia gente che la critica perché non dà il cosiddetto squat ass cioè il culo da squat però è vero non lo crea non creerà neanche un dici vite delineato neanche un addome totalmente d'acciaio però ha fatto muovere le masse le ha spostate dal divano questo è quello che di base lo sport dovrebbe fare è stato raggiungibile a tutti in ogni città paese c'era una scuola di zumba e quindi ha creato dei buoni presupposti che poi comunque ripeto non sono quelli che magari ricerca un bodybuilder un powerlifting o comunque uno o comunque uno che vuole l'addominale scolpito la gamba grossa o vuole fare delle competizioni però ragazzi se si pensa alla signora di 60 anni che si vedeva forum e non faceva niente tutto il giorno adesso almeno c'ha la cosa a dire però aspetta così quasi vado a fare due passi e mi muovo per un pochettino quindi ragazzi se video da questo punto di vista può andare anche bene il video finisce qua questi sono pensieri miei ragazzi come l'avete capito purtroppo il mio collega ancora non riusciamo a vederci perché questi video li sto registrando tutti di botto quindi questo con la programmazione chissà quando lo vedrete è l'uno settembre fate il calcolo un po' voi ragazzi ripeto questi sono pensieri miei chi ha problemi, dubbi, perplessità, domande potrà ovviamente scriverlo nei commenti iscriversi al canale lasciare un mi piace se volete ragazzi oppure ci potete contattare sulle pagine instagram e facebook in.sport.fit mi sto divertendo anche a fare un sacco di meme non lo so perché sono insta ispirato ragazzi vi lascio un buon allenamento da in.sport ciao